come ti senti non so non non so e tu ho provato una sensazione un po si un po strana si ecco è questa la parola strana ecco maxi posso farti una domanda sì quale mi direi la verità sì te lo prometto hai provato qualcosa la verità hai detto per favore non ho provato niente beh che bello perché neanche io no sul serio sul serio che sollievo meno male e così possiamo continuare a essere amici sì certo i migliori amici del mondo come sempre forte che bello e beh ora devo andare perché mia madre mi aspetta per fare una cosa va bene